Siamo all'Ograto in provincia di Brescia, in un'azienda che ricicla polistirolo, polistirolo post-consumo. L'impianto esiste da decenni di anni e ci siamo solo nell'ultimo periodo specializzati nell'accolta e riciclo di polistirolo proveniente dalla raccolta differenziata. Partiamo dalla fase di macinazione e lavaggio, dopo la quale viene selezionato il prodotto tramite selettori ottici. polistirolo rigido e espanso e questo viene selezionato a tutto quello che è inquinanti o materiali comunque non compatibili che subiscono sempre un parallelo processo di riciclo e alla fine del quale viene escluso, viene fatto il granulo dal quale viene utilizzato poi dai nostri clienti per fare i prodotti finiti. Prodotti per l'isolamento, lastre, packaging come gli stessi vassoietti espansi che abbiamo visto all'inizio della filiera e tutto quello che riguarda polistirolo rigido. Questo è un impianto che produce 50.000 tonnellate all'anno di materia prima e seconda, tutta riciclata post-consumo.